Bella a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di Fan4Fan questo è il primo episodio di tutorial e oggi andremo a vedere come scaricare e craccare Dying Light per prima cosa dovrete andare su questo sito di cui vi lascerò il link in descrizione e qui potrete scaricarlo per scaricarlo tramite torrent vi basterà cliccare su questo link che vi indirizzerà direttamente alla pagina per cominciare il download oppure potrete scaricarlo dal browser con quest'altro link però dovrete farlo un giga alla volta una volta scaricato vi troverete davanti questa cartella questa cartella qui una volta aperta avrete questi tre file quello che ci interessa è questo qui rld eccetera eccetera questo è un file iso per poterlo aprire vi servirà un determinato programma ce ne sono vari però quello che uso io è demon tools questo qui potrete scaricarlo gratuitamente basta scaricare il light comunque vi lascerò il link in descrizione anche di questo una volta aperto il programma cosa dovrete fare? dovrete cliccare su questo tasto per aggiungere una periferica virtuale fatto questo dovrete prendere il file iso e metterlo qui dentro ok una volta messo qui dovete metterlo sulla periferica virtuale e come vedete vi monterà l'immagine quindi il computer riconoscerà come se avete inserito il cd del gioco e vi aprirà questa finestra ora è importante non fare direttamente il setup perché altrimenti non potete accedere alla cartella contenente la crack dovete fare su apri cartella per visualizzare i file e come potete vedere qui c'è il setup e la crack ora partiamo con il setup per installare il gioco ok lo fate partire ok e una volta partita l'installazione vi chiederà subito dove volete installare il gioco questo è molto importante perché dovrete ritrovare questa cartella per poi mettere la crack quindi vedete di ricordarvi dove l'avete messa insomma se andiamo avanti vi chiede se fare un'icona sul desktop e poi comincerà l'installazione ora io non la rifaccio perché l'ho già installato per vedere se funzionava l'unica cosa alla fine dell'installazione vi apparirà una finestra in cui ci saranno vari programmi che potrete installare ora potete farlo o non farlo io però vi consiglio vivamente di farlo perché se non lo fate potreste incorrere in vari crash o pezzi mancanti del gioco una volta installato per poter craccare il gioco dovete aprire questa cartella in cui c'è la crack e andare a prendere nella cartella dove l'avete installato io per esempio l'ho installato su C programmi per 86 che è la cartella di default in cui ve lo installerà di base se non la cambiate se invece l'avete cambiato comunque cercate dove l'avete messo e troverete questa qui quindi non lo rifaccio dopodichè avrete craccato il gioco e avrete il gioco funzionante però sarà in inglese per poterlo trasformare in italiano cosa dovrete fare? dovrete andare a cercare un file che è della crack però all'interno di questa cartella perché una volta che avrete messo la crack sarà presente anche qui questo file è steamapi una volta aperto se non ve lo apre dovete fare apri con blocco note dovrete andare giù finché non trovate la stringa language e qui ci sarà scritto english voi lo troverete esattamente così ok? da english semplicemente lo trasformate in italian italian così non riesco a scrivere lo trasformate in italian e salvate quando farete salva però ve lo salverà direttamente fuori dalla cartella dato che è una cartella di installazione quindi non ve lo può salvare quindi per esempio lo salvate sul desktop e poi lo mettete qui e lo sostituite una volta sostituito avrete la lingua impostata su italiano però ciò non basterà perché di base nel gioco che avete scaricato non ci sono i discorsi in italiano quindi sentirete tutti i rumori del gioco ma senza i discorsi in italiano per avere anche i discorsi in italiano dovrete scaricare questo archivio di winrar che ho qui per farlo dovrete andare su quest'altro link di mega che vi lascerò in descrizione da cui potrete scaricarlo basterà cliccare su download e comincerà il download sono 700 mega non ci metterà molto ok fate partire il download una volta scaricato avrete quindi questo archivio con questo archivio cosa dovrete fare? voi semplicemente fate estrai i file in spec sheet ve li distrarà una volta estratti vi troverete di fronte questa cartella questa cartella cosa dovete fare? dovete metterla qui dentro però non nella cartella di base ma dentro a dv ok? entro a dv avrete tutto questo tranne spec sheet per chi ce l'ho già messo quindi dovrete semplicemente spostare questa e fare sposta in dv adesso a me mi dice vuoi sostituire tutto quanto però a voi ve la metterà lì dentro semplicemente quindi ricordate in dv né nella cartella normale né in common reddice in dv ok? una volta fatto questo avrete anche i dialoghi in italiano e il gioco completamente in lingua italiana appunto quindi se il video vi è stato utile vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate mi piace se avete problemi o volete scrivermi una qualsiasi cosa magari non insulti ma vanno bene anche quelli commentate e al prossimo video bella